Il percorso dei magi verso la stella polare al cospetto di Gesù Nato, del re bambino venuto al mondo in una grotta, è l'immagine con la quale l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, ha descritto l'Epifania in cattedrale nel giorno della festa dei popoli. Celebrata con un rituale diverso, molto più contenuto a causa della pandemia da Covid, il presule dall'altare al termine delle letture affidate ai giovani di etnie diverse ha esortato i fedeli. Questa festa ci accompagna in un percorso di luce, in questo cammino da cui dobbiamo uscire con fede e speranza. Il tema della speranza ha dunque riproposto con forza insieme all'invito a seguire l'esempio dei re e magi che hanno avuto il coraggio di cambiare strade a condannare il cinismo di Erode. Come detto, una festa dei popoli senza canti, danze e vestiti colorati indossati dall'etnia di tutto il mondo per la consueta celebrazione con i rappresentanti di tutti i paesi. Sono comunque intervenuti gli esponenti delle diverse comunità etnie cattoliche di Napoli, africana francofona, africana anglofona, i cinesi, cingalesi del Gesù Nuovo, etiopi, eritrei, filippini, latinoamericani, polacchi, sri lanchesi dei vergini e tamil. La voce inconfondibile di Monsignor Vincenzo De Gregorio, virtuoso dell'organo insieme al coro della comunità filippina, ha accompagnato la celebrazione liturgica. Eliminato dal protocollo anche la consueta consegna dei giocattoli da parte del Movimento Cristiano Lavoratori. Per i figli degli immigrati saranno consegnati dall'arcivescovo i cappellani che provvederanno altrove a farli avere i bambini della propria comunità e alle varie associazioni che operano sul territorio tra cui esso gioca.